C'è anche Gubbio a Tokyo, seppur in maniera virtuale, grazie all'iniziativa del basket Gubbio patrocinata dal comune di Gubbio con i Umbria, FIP Umbria e il settore minibasket della FIP, che si è conclusa con successo e che ha consentito ad atleti e non di rimettersi in moto in movimento dopo lo stop forzato a causa delle restrizioni Covid-19 e di giungere nella capitale nipponica dove sono in corso i giochi della 32esima Olimpiade. Finalmente siamo giunti a Tokyo, siamo arrivati con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia ma giusto in tempo anche per vedere la nazionale di basket che ha avuto un buon risultato. Siamo partiti a maggio con questa iniziativa, con un'app che doveva portare i nostri ragazzi virtualmente a Tokyo e giorno dopo giorno con atleti, simpatizzanti e sostenitori siamo riusciti ad arrivare a Tokyo e compiere i 12.700 chilometri che separavano Gubbio da Tokyo, quindi un arrivo virtuale ma che moralmente doveva rimettere in moto un pochettino tutto il sistema sportivo, un restart per tutti, a prescindere dal basket e per tutte le famiglie, per tutti coloro che svolgerono un'attività sportiva. Intanto l'attività del basket Gubbio prosegue con la programmazione per la nuova stagione alle porte. Stiamo proprio riorganizzando partendo dallo staff tecnico del mini basket, partendo dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Saranno delle novità, dei ritorni, una grande programmazione, punteremo molto nel far partire un avviamento allo sport perché noi crediamo che l'attività sportiva debba essere fatta sin da piccoli e oggi un genitore che ha un bambino dai 3 ai 5 anni probabilmente ancora non trova spazi per poter fare una disciplina sportiva. Noi da settembre metteremo a disposizione i nostri tecnici per fare un'attività di avviamento allo sport per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni per poi poter avviarsi a qualsiasi disciplina sportiva.